Da me? Qua 28 bianco Dentro la casa blu Morto Mi cazzo stanno Qua Una e mezzo morta Ok Solo mattoni tengo Niente no Adesso si Una volta lì Nooo Sono caduto Meglio La nostra salvezza Non scendolo io C'è uno spiderman Spiderman più cosa Ah? Per cosa? E dove è? Che cazzo ne so io No No ma non ho visto A terra Peccato Poi li potete accedere tutti i due Ah sta bene così diretto? L'hai messo a terra o no? Eh ma una quarta ora fa E' ancora a terra E' visto Ti assicurava? Ti assicurava? Ah c'è uno poco di roba oro Qua Un poco di Dato Che 3 3 squadra 2-2-1 non vedo no ancora non vedo 2 non vedo e tu arriba non vedo o no non 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 bianchissimo minato due squadre due contro due sta scendendo eccolo non c'è cura io ho una specie c'è no non c'ho granata prendo il cecchino dietro mi sa qua stavo bene ci dovranno cadere qua sta sotto di noi cioè dove stiamo noi è venuto mi sa che uno è venuto proprio dove stiamo noi eh come ha fatto io mi passo proprio di minciare l'acqua ma si sono presi la voce ma non penso che stai qua ma dove c'è sta ma qua non sta c'è il ducadimo se abbiamo due spiderman di prima si no jump no però ci era ci l'ha misa mi spara ne io mi sa che sono morto o forse no non guarda reale da me tascaciudotto Grazie a tutti Fa' un culo Quando si scascia sta cosa? Qua No 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 dai Dai Ma hai già scasciato tutto Quindi non stia proprio su su No Ma era sceso piccacca Si Va in chiuso Va a calare Ho pure preso la corona Allora Grazie a tutti.